vi sembrerà di lanciare i dadi e muovere le pedine grazie a tele venezia ecco a voi il zogo dell'oca di mirano come non l'avete mai visto domenica 10 novembre diretta a partire dalle 15 su canale 71 e in streaming su venezia radio tv punto it godetevi il gioco dell'oca dalla poltrona di casa e senza mai pagare pegno